Dunque, nelle ultime lezioni ci siamo occupati del futurismo e abbiamo detto che oltre alle altre caratteristiche salienti, il futurismo ha tra le sue caratteristiche quella di essere stato uno dei movimenti più strutturati del Novecento, sia a livello formale sia soprattutto a livello teorico. E infatti noi abbiamo costruito tutto questo percorso sulla base di una serie di elementi specifici e di indicazioni prese direttamente da testi scritti e pubblicati, quelli che definiamo i manifesti, i futuristi scrivono manifesti su ogni campo della loro attività artistica e non solo, in grado di condurci con sicurezza all'interno della poetica futurista e di scandire anche cronologicamente i diversi passaggi che caratterizzano lo sviluppo tematico, lo sviluppo stilistico del futurismo. E quindi noi sappiamo con sicurezza, per quello che riguarda quella avanguardia, di chi si sta parlando, il quando, il dove, il cosa. E sono dati che ci aiutano a ricostruire, a chiarire diversi passaggi del come vengono svolte determinate azioni e del perché si fanno determinate scelte. Per l'astrattismo il ragionamento è leggermente diverso. Abbiamo una serie di problemi interpretativi che rendono necessarie alcune premesse sia sul piano dei contenuti che su quello delle intenzioni e dei moventi artistici e anche filosofici di appartenenza dei diversi protagonisti. A partire da una serie di discusse questioni di ordine cronologico che se apparentemente ci sembrano secondarie però poi in realtà hanno un loro perché. Perché stabilire chi è il primo, diciamo così, consapevolmente a mettere in campo un'opera d'arte completamente astratta ci aiuta a capire dove nasce l'astrattismo e come si forma. Ma questo perché col termine astrattismo, un po' come abbiamo detto, parlando per esempio del realismo oppure successivamente dell'espressionismo, si possono intendere tante cose diverse fra loro. Tanto per cominciare noi sappiamo che l'insorgere di tendenze astratte che siano più o meno consapevoli e originate da dinamiche molto diverse fra loro spesso, questo insorgere corre lungo tutto il corso della storia dell'arte, cioè ci sono elementi, temi astratti a partire dall'inizio, diciamo, dell'attività artistica dell'uomo. Soprattutto durante l'Ottocento, per rimanere a quello che abbiamo fatto nelle nostre ultime elezioni, ci si imbatte spesso in brani pittorici di gusto decorativo, spesso completamente svincolate da ogni elemento figurativo, però questi elementi sono comunque sempre inseriti in contesti più tradizionali e questo inserimento in un contesto tradizionale figurativo tende a vanificare in parte la portata innovativa di questi elementi astratti, per mancanza potremmo dire di consapevolezza, cioè l'artista non vuole consapevolmente eliminare la figurazione tradizionale. È come se certi elementi tendenzialmente astratti scaturissero, nascessero spontaneamente, ma solo come accompagnamento ad un tipo di rappresentazione che tendenzialmente resta figurativa. Per esempio, tutto quello che prende a modello l'arte ingenua, l'arte dei popoli antichi, del Medioevo, e poi successivamente l'esotismo, tutto quello che ha a che fare con i popoli, per esempio, d'oltremare, dove il contenuto e il significato ha evidentemente il sopravvento sulla forma, sul significato, tende ad una complicazione decorativa o in alcuni casi all'opposto a una semplificazione formale che nelle sue tendenze, che siano quelle analitiche, quindi di complicazione, che quelle sintetiche, quindi in qualche modo di semplificazione, comunque si richiama a principi di astrazione. Pensiamo per esempio al decorativismo di Klimt, che vi mostro in questa slide, o alle campiture piatte del croasonnismo. Vedete all'estremo opposto della stessa slide il talismano di Paul Celusier. Nel caso di Paul Celusier io so che si tratta di un paesaggio, il paesaggio d'amore, questo è il titolo vero dell'opera, ma potrei intendere il dipinto anche come una serie di campiture di colore piatto, perché poi in realtà l'interpretazione che ne do deriva dalla conoscenza che ho dell'opera, ma potrebbe anche essere intesa in senso esclusivamente astratto. O, d'altra parte, tutta la fascinazione per l'arte esotica precolombiana, asiatica, che tende a una semplificazione della linea, e poi per l'africana, che abbiamo visto sullo scorcio dell'età contemporanea, abbiamo visto essere così importante sia per gli espressionisti che per i cubisti. E gli artisti che abbiamo visto operare, sia in ambito espressionista, e poi cubista e anche futurista, e mi riferisco a De Ren, a Picasso, a Leger, a Balla, a Boccioni, ma potremmo citarne ancora molti, a loro volta cercano sicuramente di limitare questa tendenza a scivolare verso l'astrattismo, lo dichiarano anche, dichiarano proprio la volontà di non voler essere astratti, ma poi manifesteranno comunque uno scivolamento verso l'astrattismo che è ineludibile. È un elemento che abbiamo visto completamente operante in opere come quelle che vi mostro ancora in questa slide, i dischi cromatici di Robert Delonais, in questo caso i prismi elettrici della moglie di Robert Delonais, Sonia Terck, oppure l'opera di Franticek-Kupka, che comunque sono inserite all'interno di un contesto cubista, non, diciamo, formalmente astrattista. Le avanguardie storiche delle quali ci siamo occupati fino a questo momento tendono tutte, in un modo o nell'altro, a spingere in direzione dell'abbandono della rappresentazione del visibile. Quindi a partire dall'idea dell'espressionismo all'inizio del secolo e poi accaduta dalle idee cubiste e poi futuriste, si tende a rappresentare ciò che si sente, ciò che si conosce, ciò che si ricorda, di volta in volta, si abbandona l'uso naturalistico del colore della linea, si elimina la finzione geometrica della prospettiva, si cerca fondamentalmente di rappresentare l'irrappresentabile con la simultaneità dei punti di vista, cioè vedere lo stesso oggetto contemporaneamente da punti di vista diversi, e poi addirittura col futurismo si introduce un vero e proprio simbolo, cioè l'idea della resa della continuità del movimento in un oggetto pittorico-scultorio che per sua stessa natura è immobile. Quindi l'astrattismo in questo senso è un risultato ovvio, è chiaro che non si può che arrivare all'astrattismo, è una necessità più che un'aspirazione, è una meta, a cui l'arte contemporanea tende in modo irresistibile, sin dai suoi albori, senza poter in alcun modo eludere il problema. Poi però bisognerebbe chiedersi perché, cioè per quale motivo tutta l'arte contemporanea in questa fase tende verso l'astrattismo. Perché l'astrattismo corrisponde alla necessità di liberarsi in maniera risoluta, in maniera completa, da ogni vincolo del linguaggio tradizionale e figurativo. È una sensibilità, è un atteggiamento, è un'intuizione che traspare nell'opera di ricerca, diciamo così, dell'avanguardia, ben prima della nascita dell'astrattismo vero e proprio inteso come corrente artistica, come un movimento più o meno strutturato. Però poi arriva anche l'altro punto fondamentale, ossia che l'astrattismo è anche una corrente artistica precisa, specifica, che prende avvio negli anni dieci, che prende avvio da istanze, esigenze e sensibilità diverse. Qui abbiamo due problemi. Il primo problema che abbiamo affrontato è il termine astrattismo. Esiste un astrattismo all'interno di forme d'arte che non sono completamente astratte. Poi esiste l'astrattismo come movimento. E questo è il primo problema, noi ci occuperemo dell'astrattismo come movimento. Il secondo problema è il fatto che l'astrattismo nasce da tendenze a volte opposte fra loro, che in luoghi diversi d'Europa, però nello stesso tempo, nello stesso periodo, giungono in qualche modo a risultati simili, molto simili fra loro. Anche se appunto il punto di partenza è assai distante. Quindi il problema della cronologia è un problema di paternità. Chi è stato il primo artista consapevolmente astratto? Questo per capire, per orientarsi all'interno di queste due posizioni. Ora, per esempio, per capirsi, vi mostro un dipinto di Francis Picabia, Pepe, che è datato tra il 1907-1910. Un'opera evidentemente, chiaramente, completamente astratta, una composizione di colori. Ecco, se vogliamo dare una parvenza di risposta a questa domanda, chi da dove è nato, chi è stato il primo artista astratto, che a noi a dire il vero interesserebbe relativamente poco, possiamo prendere le parole asciutte, essenziali, chiare, con le quali Mario De Micheli apre il nono capitolo del suo studio sulle avanguardie storiche del Novecento. Il capitolo che si intitola La regola dell'astrattismo, dove lui dice che l'astrattismo è nato intorno al 1910, quasi contemporaneamente in diverse parti d'Europa, il problema delle date è abbastanza difficile, ma non è un problema fondamentale, per l'appunto, no? Chi è stato il primo artista a fare una scultura o un quadro astratti? Esistono dei disegni astratti di Picabia del 1907, ma forse il tedesco Hélssel lo ha preceduto. E qui chiudiamo la citazione per dire che in effetti è fondamentale che sia stato Picabia o che sia stato Hélssel o addirittura qualcuno precedente a questi due artisti? Per noi no. Quello che per noi è importante è che tutto questo affiorare di volontà liberamente antifigurative, che abbiamo trovato anche nel cubismo, nell'orfismo, nel futurismo, nell'espressionismo, trova poi un suo compimento, una sua specifica fisionomia, tra il 1910 e il 1914, quando l'astrattismo appunto diventa un movimento. E lo fa seguendo due tendenze, che sono apparentemente, ma non solo apparentemente, opposte fra loro e che per noi costituiscono il secondo nodo fondamentale del ragionamento. Vedremo infatti che tra tendenze che si svilupperanno su tutto il contenente, noi ne analizzeremo tre, in particolare tre episodi che assumono un rilevo fondamentale, tre episodi che però si orientano verso due posizioni distinte e in parte divergenti fra loro. Quindi l'astrattismo, abbiamo detto, è una necessità, un senso, un modo di fare che riguarda anche movimenti non completamente astratti. Astrattismo è anche un movimento vero e proprio strutturato e questo è il primo problema. Il secondo problema sono le due divergenti direzioni che prende l'astrattismo. Il primo caso che analizzeremo è quello russo-tedesco, che vede le sue radici nel gruppo espressionista di Monaco del Cavaliere Azzurro, Der Blaue Reiter, che noi abbiamo già analizzato, ne abbiamo già parlato e che vede tra i suoi protagonisti Vassili Kandinsky, Franz Marc, August Macke e poi anche Alexei Jolesky, Paul Klee, Kubin, Verevkin e molti altri. Un astrattismo emotivo, visionario, che in certi casi guarda evidentemente a Freud, alla psicanalisi, fatto di impulsi lirici, un astrattismo legato all'idea dell'einfluing, ossia dell'empatia, della necessità di migliorare il mondo attraverso l'arte come espressione di una visione interiore. Abbiamo letto dei passaggi di Franz Marc a questo proposito. Una forma d'arte fortemente venata di misticismo, sicuramente una forma d'arte molto personale, potremmo dire. Non per niente si parla di espressionismo astratto, idee e posizioni che poi trovano un'espressione teorica nell'almanacco del Cavalere Azzurro, che noi abbiamo studiato nell'ambito di Der Blaue Reiter, quindi nell'ambito espressionista, perché l'almanacco del Cavalere Azzurro, di cui abbiamo visto la copertina di Vassili Kandischi, è il numero unico della rivista che avrebbe dovuto veicolare le idee di tutto il gruppo, che conteneva saggi soprattutto relative alla musica, oltre alle arti figurative. Vedremo proprio questo anesso tra pittura e musica, cosa che abbiamo già visto analizzando, per esempio, un'artista come Arnold Schoenberg, che è il padre della musica dodecafonica, che noi abbiamo studiato come pittore, oltre che come padre appunto della musica atonale, ma anche compositori come Berg, come Webern. E soprattutto queste idee, diciamo, che dall'espressionismo porteranno direttamente verso l'astrattismo, sono espresse nel saggio Lo spirituale dell'arte, che Kandischi scrive tra il X e l'Indici, e poi verrà pubblicato nel XII. I due dipinti che vi mostro sono due dipinti dove vedremo esiste ancora una traccia di figuratività, che però si sta completamente stemperando in una tendenza astratta, nella volontà di non somigliare alla natura, ma di eventualmente evocarla. E in questo caso vediamo Kandischi, ma vediamo anche Paul Klee, del quale parleremo nello specifico, molto interessante, perché anche Paul Klee avrà un legame strettissimo col mondo della musica. E questa è una delle due posizioni, appunto, la posizione più emotiva della corrente dei movimenti astratti. Poi abbiamo un atteggiamento che è completamente opposto. Dall'altra parte incontriamo quindi il neoplasticismo di Piet Mondrian e del gruppo olandese che si riunisce intorno alla rivista The Steel con personaggi come Deo van Dersburg, Gerrit Rietveld, George van Tongerloo e molti altri, che risponde a pulsioni completamente opposte, orientate a una sorta di ascetismo scientifico, razionale, guidato da un'idea rigoristica, calvinista, basata sulla matematica, sulla geometria, quindi sulla razionalità. Un processo di natura mentale, anziché mistica, che tende, leggo ancora le parole di De Micheli, a superare il fluttuale delle passioni, i turbamenti, le incertezze sentimentali, mediante un accanito processo di spersonalizzazione e di liberazione dagli stimoli individuali. Quindi il contrario esatto di ciò che abbiamo detto parlando di Vassili Kandinsky e che vedremo sia in Kandinsky che in Klee che negli altri artisti di quel gruppo. Una sorta, in questo caso, di democratizzazione assoluta dell'arte, possiamo aggiungere, che viene operata attraverso l'abbandono di tutto ciò che esalta l'emotività, l'individualità dell'uomo. Per esempio la linea aperta, per esempio il colore sfumato, i toni intermedi. E infatti noi vediamo, in quest'opera cereberrima di Piet Mondrian, che Mondrian riesce a sterilizzare l'arte in grigli ortogonali di non colori, bianco e nero, intervallate da campi geometrici di colori primari. Così, nelle parole stesse di Piet Mondrian, noi cogliamo questa volontà di democratizzare l'arte, l'arte che non deve suscitare emozioni, perché deve essere uguale per tutti, comprensibili a tutti ed accessibili a tutti. E allora Mondrian dirà, l'uomo non sarà nulla in sé, non sarà che parte del tutto, ed è allora che avendo perduta la vanità della sua piccola e meschina individualità, sarà felice di questo Eden, che avrà creato il massimo della democratizzazione nell'arte. A questa linea si collegherà infine l'astrattismo russo, che si esprimerà in tre fondamentali correnti, il reggismo, il suprematismo, il costrattismo, che cercheremo di toccare, anche se molto rapidamente, e che vedrà i suoi protagonisti in Larionov, in Natalia Gonciarova, soprattutto in casi Mermalievich, in Tatlin, in Elitsitsky. E una volta che abbiamo visto queste due tendenze, la tendenza ultra-razionale da una parte, quella invece ultra-emotiva, potremmo dire, dall'altra, possiamo dire che la ricerca di questi artisti, così diversi tra loro performazione, temperamento, provenienza culturale, approda in ogni caso all'abbandono assoluto o graduale della figurazione tradizionale. C'è chi parte da una figura tradizionale e piano piano arriva a un astrattismo assoluto, chi non abbandonerà mai completamente la figurazione tradizionale, mi riferisco per esempio a Paul Klee, che manterrà comunque sempre una memoria, un ricordo della figurazione, diciamo così, dell'idea di ciò che si vede, e chi invece arriva a un astrattismo assoluto, geometrico, razionale, mi riferisco per esempio a Casimir Mermalievich, qui avete il quadrato nero su fondo bianco, ma poi vedremo anche il quadrato bianco su fondo bianco, ma è un fatto che fra queste due posizioni, quelle emotive e quella razionale, che rappresentano le due tendenze fondamentali dell'astrattismo, le differenze poi restano. Entrambi arrivano a una forma di abbandono della figurazione di astrazione assoluta, ma almeno nelle intenzioni ci sono delle differenze che restano significative, perché da una parte c'è una ripulsa, un rifiuto assoluto, convinto, di ogni strumento razionale, di ogni strumento positivista, in nome della libertà creativa e dell'emotività dell'artista. Sto parlando di Kandinsky, di Jolensky, di Paul Klee, di Auguste Mache, di Franz Marc. Dall'altra parte invece abbiamo il richiamo alla razionalità, al metodo scientifico, e questa razionalità rimane costante, convinta, mi riferisco evidentemente a Mermalievich, ma anche a tutto il gruppo olandese de Stihl. Ciò detto per concludere, il punto di partenza del nostro ragionamento è contemporaneamente anche una sorta di punto di arrivo per tutta la ricerca d'avanguardia, perché, non ci stanchiamo di ripeterlo, l'astrattismo, prima che è un movimento vero e proprio, è anche un movimento vero e proprio, ma prima che è un movimento vero e proprio, è una necessità, una necessità improcrastinabile, un linguaggio diffuso che si pone come obiettivo quello della totale autonomia dell'arte dalla rappresentazione del mondo reale. Esattamente come la musica non imita la natura e si limita la musica, a caso mai, ad evocare la percezione, i sentimenti, le passioni che suscita utilizzando il suo linguaggio autonomo, che è quello dei suoni, che non imitano i suoni della natura, non gestiscono i suoni della natura, non sono vincolati alla natura stessa, la stessa cosa vorrà fare la pittura, la pittura utilizzerà i suoi strumenti, che sono la linea, la forma, il piano, il colore, in modo da ora in poi sempre più libero e autonomo, fino a eludere completamente ogni forma di figurazione. E questo legame fra musica e pittura lo troviamo in Kandinsky, lo troveremo forse anche più forte in Paul Klee, non è un caso, se Kandinsky, che è uno dei padri dell'astrettismo e che fa di tutto, addirittura vedremo retrodatando alcune delle sue prime opere per farsi considerare il padre vero dell'astrettismo, utilizza spesso per le sue opere titoli come composizione, impressione, improvvisazione, evidentemente sono tutti linguaggi mutuati dal linguaggio musicale, sono tutti termini che hanno a che fare con il linguaggio musicale e non è un caso, se nella poetica dello stesso Kandinsky ci dice Liliana Nigro-Covre, il problema della forma passa in secondo piano rispetto all'esigenza di esprimere quanto detta la necessità interiore, cioè la forma è secondaria rispetto alla necessità di esprimere la nostra necessità interiore, obbedendo, dice la Nigro-Covre, obbedendo alla capacità intrinseca di linee e colori di trasmettere immediatamente senza riferimento a oggetti o codici linguistici prestabiliti la sensibilità dell'animo, cioè quello che interessa è trasmettere la sensibilità senza far leva su oggetti o codici linguistici prestabiliti, quindi senza imitare. Prima di entrare nel dettaglio dell'opera di Kandinsky, quindi ci fermiamo, concludiamo questa lezione leggendo quello che Kandinsky stesso dice sul rapporto tra musica e pittura nel quarto capitolo dello spirituale nell'arte. Le sue parole a proposito delle arti in generale e della musica in particolare sono esemplari in questo senso. Kandinsky dirà il più ricco insegnamento viene dalla musica. La musica è già da alcuni secoli dell'arte che non usa mezzi per imitare fenomeni naturali, ma per esprimere la vita psichica dell'artista e creare la vita dei suoni. Un artista che sia un creatore che voglia e debba esprimere il suo mondo interiore vede con invidia che queste mette sono state raggiunte naturalmente e facilmente dall'arte oggi più immateriale, la musica. È comprensibile che si volga ad essa e tenti di ritrovare le stesse potenzialità nella propria arte. Nasce di qui l'attuale ricerca di un ritmo pittorico di una costruzione matematica astratta. Nasce di qui il valore che si dà alla ripetizione della tonalità cromatica, al dinamismo dei colori, eccetera. Quindi il concetto per esempio di ritmo, di ritorno, di costruzione, increscendo tutti elementi musicali che vengono trasposti in pittura. E ancora Kandinsky dirà il colore è un mezzo per esercitare un influsso diretto sull'anima. Il colore è il tasto, l'occhio è il martelletto, l'anima ha un pianoforte con molte corde e l'artista è la mano che con questo o quel tasto porta l'anima a vibrare. Vedremo nelle prossime lezioni come l'artista riesce a tradurre per via pittorica questa sua idea musicale e così romantica potremmo dire dell'arte. Grazie a tutti.